La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Ci sono delle eccellenze storiche che vogliamo permeare questa sera, delle realtà che si sono confermate anno dopo anno, pensate alcune per ben 10 anni consecutivi e che partecipano anche alle nostre serate internazionali, quindi non solo qui a Milano ma in giro per il mondo. E dunque abbiamo deciso di invitarle proprio qui questa sera per riterare il premio che gli spetta, che spetta loro. Adesso li chiamiamo sul palco l'avvocato Andrea Di Francesco, studio legale BDL. Ecco qua, forse sta arrivando. E spieghiamo anche perché per rappresentare da oltre due anni un'eccellenza nel settore del diritto del lavoro, dove opera con grande professionalità e competenza. Buonasera avvocato anche a lei. Siamo in compagnia di Andrea Di Francesco, avvocato presso lo studio legale BDL con sede a Roma e Milano. Questa sera ha ricevuto un riconoscimento importante che conferma la sua posizione di eccellenza nel settore del diritto del lavoro. Un commento sul premio ricevuto. Grazie, buonasera a tutti. Naturalmente sono molto orgoglioso, onorato, lieto insomma di questo riconoscimento di cui appunto ringrazio le fonti legal, la community così articolata che ha voluto conferire al sottoscritto questo premio. Direi quasi collegandomi che a parte di avere questo premio arriva diciamo un po' come dire in un anno particolare perché quest'anno compio 30 anni di inizio della professione legale e mi volevo un po' un attimo anche collegare come un firugio anche a quello che è stato circa due anni fa il premio di riconoscimento per il miglior avvocato dell'anno per il diritto del lavoro alla boutique di eccellenza dove aveva avuto modo di dire che questo premio sicuramente non sarebbe stato un traguardo ma un tagliando. Aver ricevuto appunto quest'anno un riconoscimento di eccellenza con una parola molto importante significa che questo lavoro che è stato fatto è stato ancora di più apprezzato e riconosciuto da una clientela, una community che ha cominciato appunto a conoscerci anche un po' meglio e soprattutto dal fatto che forse abbiamo dato le risposte che poi ci venivano chieste in termini di tempistica, in termini di qualità e questo diciamo anche per quanto riguarda una consulenza tailor made e quindi di questo sono molto soddisfatto e ringrazio naturalmente di questo riconoscimento. La serata è sicuramente una serata molto come dire organizzata sempre in modo straordinario ma soprattutto perché ha al suo interno proprio perché si parla di eccellenze professionisti ed imprese di eccellenza nazionali e internazionali che quindi in qualche modo insieme possono scambiare le proprie esperienze e quindi quello che poi è cosa più importante è sicuramente il networking che si crea in questo tipo di serati e di avvenimenti. Quindi grazie ancora. Avvocato, la sua specializzazione verte soprattutto sul diritto del lavoro sindacale e della previdenza sociale. Secondo lei quali saranno le sfide future in questi tre settori e perché? Beh guardi, credo che diciamo il diritto del lavoro del futuro è sicuramente il diritto del lavoro globalizzato ma anche soprattutto digitalizzato. Certamente la questione della digitalizzazione è una questione che si può esprimere sia con tutto quello che oggi può essere in qualche modo riferibile allo strumento dell'intelligenza artificiale che è uno strumento che sta iniziando ad entrare ovviamente anche in maniera espansiva nell'ambito naturalmente imprenditoriale e quindi qui bisognerà trovare dei sistemi di contemperamento delle esigenze diciamo come dire organizzativi della tutela dei lavoratori. Credo che, dell'esigenza organizzativa ovviamente dell'impresa, credo che dei passi sono stati fatti ma bisogna un po' correre contro il tempo, dico fatti anche a livello europeo, dalla Commissione europea dove sono state appunto redatte delle direttive in serie di approvazione per cercare di dare appunto un contemperamento di queste esigenze. Sicuramente questo è una questione che ci occuperà nei prossimi anni, parlo sempre naturalmente del futuro e poi accanto alla digitalizzazione e ne fa anche parte è sicuramente il nuovo modello di sviluppo del rapporto di lavoro che è un modello di sviluppo fondato sul cosiddetto lavoro ibrido dove si si va in qualche modo a dare un equilibrio tra quello che è l'aspetto sostanzialmente digitale e l'aspetto materiale di presenza del lavoratore in azienda. Quindi questo contemperamento di due elementi che sono venuti fuori attraverso una pandemia ma che oggi fanno parte diciamo strutturalmente del rapporto di lavoro rendono anche appetibile il rapporto di lavoro, cioè un rapporto di lavoro anche agile, dà appetibilità alle aziende per poter assumere del personale e quindi ritengo che questo è un elemento su cui dovremmo riflettere per far sì che questo rapporto di lavoro non diventi un rapporto di lavoro esclusivamente individuale e asociale ma che abbia anche degli elementi di socialità che è sicuramente importante, quindi cercare di non isolare i lavoratori e quindi l'alienazione dal lavoro attraverso la digitalizzazione ma la partecipazione e su questo mi aggancio, deve intervenire sicuramente anche quello che è le relazioni sindacali, cioè si dovranno confrontare su questi nuovi fenomeni che vanno sicuramente regolamentati cercando di trovare appunto quegli spunti importanti di equilibrio. Vedo però che talvolta oggi in Italia il dialogo delle relazioni sindacali si fonda ancora su concetti un pochino potrei dire tra virgolette anziani, nel senso che si parla ancora di elementi sicuramente importanti ma chiaramente fondati su una contrattazione collettiva anche del passato. Quando si parla di salario minimo e diciamo di tutto il dialogo che ne è e la discussione che ne è scaturita anche a livello politico, credo che sostanzialmente questo dialogo sia sicuramente importante per alcuni settori dove manca una contrattazione collettiva ma dove è sviluppata questa contrattazione collettiva ritengo che bisognerebbe trovare argomenti diversi e più posti sull'attualità come appunto quella della digitalizzazione e dell'investimento della formazione. Poi per la previdenza sociale il grosso problema è sempre quello naturalmente potremmo dire della stabilità finanziaria di un istituto e quindi quello che sostanzialmente è importante per il futuro è garantire questa stabilità per poter in qualche modo garantire il servizio di previdenza. Noi abbiamo una previdenza sociale in Italia che non si occupa quando si parla di previdenza in Italia si pensa soltanto al fenomeno pensioni mentre invece il fenomeno è molto più ampio perché sono tutti quelli che riguardano gli ammortizzatori sociali. Quello che è successo purtroppo è che ci sono stati interventi che sono stati fatti diciamo al momento alle esigenze e quindi tra di loro frammentari e per cui non c'è stata mai salvo nel 1995 una e quindi molto tempo fa una riforma globale di tutto quello che poteva essere la previdenza. Ecco sarebbe auspicabile perché l'importanza è quello dell'equilibrio finanziario che è molto importante della sostenibilità del sistema per le nuove generazioni per quanto attiene appunto la previdenza sociale e il welfare. Avvocato tenendo conto delle trasformazioni in atto della professione legale secondo lei quali cambiamenti possono essere prospettati nel prossimo futuro sul rapporto clienti, avvocato, studio legale in particolare in un contesto di specializzazione nell'ambito del cosiddetto studio boutique come quello in cui lei opera? Sì diciamo che in generale abbiamo due fenomeni oggi che spaventano. Da una parte abbiamo appunto come prima parlavo anche per quanto riguarda l'aspetto della digitalizzazione del rapporto di lavoro, l'aspetto anche dell'intelligenza artificiale che entra nella nostra professione e alcuni naturalmente la vedano come un pericolo piuttosto che come una risorsa anche da un certo punto di vista della riorganizzazione che bisogna fare di quello che è poi il prodotto perché molti parlano appunto di sostituzione dell'intelligenza artificiale rispetto al professionista. Dall'altra parte abbiamo circa, mi pare di aver letto quest'anno, l'anno scorso o quello passato il 2023, oltre 100.000 colleghi che hanno abbandonato la professione perché la ritengono appunto non più soddisfacente da un punto di vista economico e redditizio e quindi si sentono quanto mai precari. Io credo che salvaguardare la professione significa continuare nella formazione, cercare di trovare diciamo sempre un principio di consulenza e di attività nei confronti del cliente che sia tailor made, quindi una specializzazione sempre più forte, una tempistica che quindi possa rendere in questi profili come diciamo anche oggi la serata lo consente di eccellenza di trovare l'equilibrio da quello che è la tempistica che chiedono i clienti ma anche però la qualità del servizio. Credo che se noi mettiamo insieme qualità, formazione e la vicinanza al cliente che non è soltanto il fatto che il cliente possa soffrire la consulenza in aspetti patologici ma proprio nell'ambito, posso dire nella mia materia, del rapporto di lavoro intero ecco e non soltanto quando c'è un problema, credo che possa questo riuscire a salvaguardare il futuro della professione e soprattutto il futuro di studi come appunto quello in cui sono io che è uno studio Boudic. L'intelligenza artificiale deve essere considerata una risorsa perché va utilizzata sicuramente per migliorare queste prestazioni e rendere sempre più efficienti. In questo senso non mi fa paura e non ci deve far paura.